Buongiorno Dovedo, sapete secondo me chi sono le ultime persone al mondo che dovrebbero parlare di etica, delle tecnologie, in particolare di etica nell'AI, visto che è quello di cui si è parlato proprio al G7? I preti e i politici italiani. Nei preti comprendo anche il prete massimo, il boss finale, cioè il nostro Papa Francesco, che è stato invitato al G7, tra l'altro unico leader religioso di sempre, invitato al G7, naturalmente dal nostro presidentissimo Giorgia Meloni, e ha colto l'occasione per parlare di etica nell'AI, per chiedere di vietare l'uso di armi governate dall'intelligenza artificiale, qualunque cosa questo voglia dire, perché come sappiamo non è che esiste un confine che determina se un'arma è guidata dall'intelligenza artificiale o no, cioè ci sono sfumature, sfaccettature, sappiamo bene che oggi la guerra è combattuta dalle armi tecnologiche, guidate in parte a distanza da esseri umani, in parte naturalmente guidate da autopiloti, piloti automatici, ma insomma, qualunque cosa questo voglia dire, l'AI, un'ipotetica intelligenza artificiale, non dovrebbe guidare le armi, perché naturalmente non potrebbe prendere le decisioni di uccidere uno, la decisione di uccidere un uomo non dovrebbe essere lasciata a una macchina, invece a un essere umano sì, quindi non vietate le armi in generale, ma le armi, quelle con l'intelligenza artificiale, quelle sì, quelle brutte, invece quelle guidate dall'uomo, allora ok, ne possiamo parlare. E tutto questo detto da una persona che fino a pochi giorni prima indirizzava epiteti poco lusinghieri alle persone omosessuali e che naturalmente ha il dono dell'infallibilità, sapete che il Papa è infallibile, a parte che ho sentito questa cosa che adesso il Papa non è infallibile in generale, ma è infallibile soltanto quando parla di questioni religiose, quindi anche lì c'è da mettere un paletto, no, questione religiose infallibile, appena esce un pochetto, no, non più infallibile, quindi attenzione, bisogna anche valutare questa cosa qua, ma, dicevo, le seconde persone non intitolate a parlare di etica nelle tecnologie sono i politici italiani, i quali intanto sanno in un paese che non è per niente all'avanguardia nel mondo nel progresso tecnologico e men che meno nell'intelligenza artificiale, ma seconda cosa è protagonista proprio di divieti per legge, di introduzione di nuove tecnologie in Italia per non dar fastidio alle posizioni dei privilegiati, e per esempio l'Italia è l'unico paese nel mondo civilizzato che non ha Uber perché altrimenti questa cosa dà fastidio ai tassisti, no, quindi c'è proprio un'opposizione, tu cura le nuove tecnologie per non dar fastidio alle posizioni esistenti, quindi questa posizione messa di fronte a tecnologie nuove che potrebbero anche lì dar fastidio ad alcune categorie, ecco, come può essere presa sul serio, come può essere presa come posizione oggettiva, scevra da condizionamenti, ecco, queste due persone, queste due figure, questi due soggetti, sono quelli che proprio dal G7 in Puglia hanno parlato, ascoltati come oracoli da tutto il mondo, no, proprio dell'etica dell'intelligenza artificiale, bene, vorrei, chiedo umilmente, ecco, che quando si parla di questioni tecnologiche che riguardano anche l'etica, ecco, si consultassero gli scienziati e non i preti o i politici italiani, gli scienziati informatici, ingegneri, ecco, la scienza, capite questa cosa, la scienza, questa cosa che a volte viene presa un po' in giro, viene dileggiata in tv, si invitano gli scienziati e poi gli si fa parlare poco, no, 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 ecco, a volte, no, quando bisogna parlare di una tecnologia, forse parlare con quelli che quella tecnologia l'hanno creata o la conoscono, la concepiscono, ecco, forse è un modo migliore per tirar fuori anche delle considerazioni etiche che derivino da qualcuno che conosce la materia di cui sta parlando, basta, volevo dire solo questo in questa mia introduzione e adesso ho qualche news, tra l'altro ho un aggiornamento anche su una cosa proprio di IA, di cui abbiamo parlato molto recentemente, cioè Windows Recall, bellissimo, andiamo a vedere qualche cosa. Ma la notizia con cui voglio aprire è questa che trovo su D-Day, in un articolo di Roberto Pezzali, intitolato Arm ha chiesto la distruzione di tutti i PC Snapdragon X Elite, che naturalmente mi ha triggerato, sapete che gli Snapdragon X Elite sono quella nuova ondata di PC con processore Arm, appunto, di Qualcomm, che tra l'altro sembrano essere molto potenti e molto veloci e mettere un po' in crisi il monopolio di Intel e in parte di AMD. Dunque, cosa ne sarà dei computer con Snapdragon X Elite? Dice Roberto Pezzali nell'articolo, Arm aveva chiesto a Qualcomm di cancellare ogni progetto relativo a Snapdragon X. Qualcomm ha deposto una controdenuncia, mentre Arm ha chiesto che vengano distrutti letteralmente tutti i computer con processore Snapdragon X Elite. Quindi, diciamo, una battaglia tra Arm e Qualcomm, ma dobbiamo un po' ripercorrere i passi per capire come siamo arrivati qui. Allora, qui, grazie a questo articolo, possiamo ricostruire tutta questa vicenda. Allora, partiamo da Nuvia, che è una startup composta da ex ingegneri Apple, che nel 2019 ha acquistato una licenza Arm per lo sviluppo di un core pensato per il data center. Sapete che Arm è un'azienda che crea dei design e un set di istruzioni per crearsi dei processori. Quindi tu da Arm, compri questi design e poi ti costruisci dei processori. Benissimo. Questa licenza dava il permesso a Nuvia di sviluppare il suo core usando il set di istruzioni Arm, oltre a una serie di strumenti di test e di supporto da parte di Arm stessa. Qualcomm ha acquisito Nuvia e ha deciso di usare il core che Nuvia ha progettato per creare Snapdragon X Elite e in futuro per inserirlo in tutti i suoi prodotti, da quelli per smartphone ai wearable, cioè gli smartwatch, eccetera. Secondo Qualcomm, avendo acquisito Nuvia ed essendo in possesso di una licenza Arm, tutti i progetti Nuvia potevano essere passati a lei senza alcun problema, mentre secondo Arm no, la licenza di Qualcomm preesistente andava rinegoziata e non era assolutamente trasferibile. Non solo, i termini di licenza che Nuvia aveva accettato erano agevolati dal fatto che era una start-up e Nuvia, trasparenti progetti e la licenza a Qualcomm, avrebbe violato questi termini, tanto che Arm si è vista costretta a revocare una licenza. Con la licenza revocata, il core Orion, quindi quello che Qualcomm ha sviluppato secondo questa licenza, diventa un prodotto illegale e deve essere distrutto. Naturalmente conosciamo il rapporto tra Qualcomm e Arm, no? Cioè, Arm un tempo creava i suoi core Crate, ma ora usa i Cortex di Arm e ha sempre pagato a Arm un sacco di soldi per avere questi design finiti, ma ora grazie a Orion, proprio il processore costruito da Nuvia, che finirà su ogni progetto di Qualcomm, l'azienda di San Diego non avrà più bisogno dei Cortex e questo per Arm è un grosso problema. Qualcomm vorrebbe pagare solo la licenza ALA, che è quella che permette di usare esclusivamente il set di istruzioni, che quindi naturalmente costa molto meno, ma Arm chiede che si passi a un nuovo modello di business che prevede il pagamento di una quota di licenza per ogni processore venduto. Se perde, da una parte, deve guadagnarci dall'altra, naturalmente. Ebbene Qualcomm, a fine aprile, ha controdenunciato Arm. Arm, dice Qualcomm, ha tentato di ostacolare i progressi tecnologici di Qualcomm nel design delle CPU, trattenendo intenzionalmente strumenti e documentazione che Qualcomm, secondo l'accordo di licenza dell'architettura Arm-ALA, ha pagato e ha anche falsificato l'esistenza di quei materiali e ha minacciato di terminare anche le licenze di Qualcomm. Dice poi l'articolo, i materiali in questione sarebbero gli strumenti di verifica e progettazione. E quindi naturalmente, forse, dice poi in chiusura Roberto Pezzali, forse è per questo che Microsoft per il futuro ha guardato a Mediatek, che è l'incarnazione di Arm. L'altro prodotto usa solo il design di Arm e sarà la prima a usare Core Arm pensati per il computing che sono stati appena annunciati. Se il tribunale dovesse pronunciarsi a favore di Arm, Qualcomm sarebbe costretto a interrompere lo sviluppo dei Core Nuvia e non si potrebbero più vendere computer con Snapdragon X, ma potrebbero volerci anni per arrivare a un verdetto. Quindi, ovviamente, chi compra oggi un computer con Snapdragon X Elite non rischia nulla. Oh, ed ecco qua dei aggiornamenti freschi freschi su Windows Recall, che ormai è la storia dell'anno, è appassionantissima. Bene, dopo aver visto nelle puntate precedenti come Windows abbia presentato questa feature Recall e tutti gli esperti di Cyber Security si siano messi le mani nei capelli e abbiano gridato al Privacy Nightmare, naturalmente per questa feature che fa degli screenshot del desktop ogni qualche secondo, li salva in un database non criptato e poi consente all'utente di andarsi a rivedere la timeline di quello che ha fatto, chiedendo anche a Copilot di ripercorrere un po' le azioni che ha fatto, perché questi screenshot poi vengono registrati, trascritti grazie a un OCR, quindi un programma di trascrizione da immagini a testo, oltre naturalmente a analisi delle immagini. Ebbene, tutto questo, Microsoft inizialmente aveva detto di aver ascoltato le preoccupazioni degli esperti e quindi di aver inserito alcune feature per migliorare la security, ma adesso effettivamente c'è troppa pressione nei confronti di questa azienda e quindi ha deciso, questa è notizia proprio degli ultimi giorni, di ritardare il rilascio proprio di Windows Recall, che quindi non uscirà come era previsto con i Copilot Plus PC, che invece usciranno il 18 giugno. Quindi questa feature Recall sarà disponibile solamente in preview con il programma Windows Insiders, quindi per quelli che utilizzano le beta version, insomma, di Windows. Ma tra l'altro gli sviluppi su Recall non si sono fermati, anzi, c'è appunto uno sviluppatore del programma Insider che ha analizzato le ultime novità delle ultime build di Insider scoprendo delle cose nuove. Questo sviluppatore si chiama AlbaCore e ha parlato di numerosi miglioramenti proprio al programma Recall che ci sono nell'ultima Canary Build, quindi proprio nell'ultima build più recente delle versioni beta di Windows 11. E quindi per esempio, premendo Win più Shift più D, si lancia una nuova utility ScreenRay che permette di analizzare tutto quello che è sullo schermo, anche fare le traduzioni del testo e chiedere ulteriori suggerimenti proprio a Copilot. Quindi proprio un tool di analgi di quello che c'è in questo momento, in un dato momento, sullo schermo. Vedete per esempio in questa immagine che c'è uno screenshot dello schermo e poi in basso destra, anche se la copro un po' con il mio faccione, c'è la finestrella di Copilot a cui si può chiedere informazioni su quello che sta succedendo in questo momento sul desktop. C'è anche un redesign della home page di Recall. Qui il cambiamento principale è la nuova sezione Topic con gli snapshot che sono sistemati in una lista in stile griglia. Quindi adesso quando si apre Recall Windows 11 non fa uno snapshot dello schermo ma apre una home page. Questa roba potrebbe essere un po' controintuitiva ma comunque c'è sempre una combinazione di tasti per creare uno screenshot in un dato momento. Ed ecco qui invece la home page di Recall con le sezioni ordinate per Topic che sono taggate naturalmente perché ogni screenshot viene taggato. Un'altra aggiunta a Recall è un'integrazione migliore con Copilot che non era proprio ben presente nella prima versione quindi cliccando qualunque cosa su uno snapshot uscirà un menu con vari feature come per esempio la possibilità di descrivere un'immagine e trovare immagini simili a quella oppure crearne di nuove, sempre simili oppure fare copie e lanciare altre app. Quindi per adesso tutte queste cose che stanno in Recall rimangono soltanto nel programma Insider. non c'è una data, non c'è neanche una previsione di quando verrà rilasciato al pubblico e Microsoft parla di ulteriori interventi per rafforzare la security però senza specificare quali saranno insomma staremo qua a guardare perché probabilmente verranno fuori nuove notizie nei prossimi giorni. Faccio una terza parte del podcast che di solito non faccio mai ma oggi mi sento in forma e c'è una notizia anzi ve ne do due velocemente una che riguarda il Giappone perché il Parlamento giapponese ha passato una legge che richiederà a Apple e Google di permettere ai sviluppatori di creare degli app store di terze parti sui device insomma su iOS e Android l'avete già sentita questa? ebbè assomiglia un po' a quello che è stato fatto in Europa con il DMA. Ebbene questa legge si chiama Act on Promotion of Competition for Specified Smartphone Software insomma legge giapponese e questa legge praticamente trova dei designated providers che per adesso sono soltanto Apple e Google perché si parla del fatturato quindi è un po' il criterio che è stato fatto in Europa e si richiede a questo provider di fare tre cose la prima è di permettere gli app store di terze parti sui loro device la seconda è di permettere agli sviluppatori di app di usare sistemi di pagamento di terze parti e la terza è di permettere agli utenti di cambiare i settaggi di default con delle procedure semplici per esempio offrire degli schermi di scelta per scegliere il browser predefinito questa cosa l'avete già sentita è vero? e ora parliamo invece delle cose che sono proibite ecco è proibito pompare i propri servizi nei risultati di ricerca senza una ragione giustificabile non si può neanche usare i dati degli utenti presi da applicazioni di competitor per le proprie applicazioni quindi usarli per le proprie applicazioni e non si può impedire agli sviluppatori di app di usare feature controllate dal sistema operativo con lo stesso livello di performance che usano gli sviluppatori del sistema operativo stesso parlo per esempio dei chip che sono nel device come NFC quindi la possibilità di usare NFC per fare i pagamenti esattamente come fa Apple come fa Google con il proprio OS anche queste cose vi suonano familiare praticamente sono le stesse cose che abbiamo fatto in Europa con il DMA ma lo stesso governo giapponese ha detto che ha preso il DMA oltre alle leggi americane proprio come ispirazione per questa quindi vedete che anche in Giappone che è un mondo a livello politico ed economico abbastanza simile al nostro ecco si fanno le stesse cose quindi anche qua Apple e Google dovranno conformarsi a queste novità e in ultimissimi un breve se vi interessa qualcosa ora sappiamo perché da cosa è nato il famoso screensaver dei tubi 3D che c'era in Windows fino alla versione vista ve lo ricordate no? se siete abbastanza anziani come me forse vi ricorderete questo screensaver meraviglioso con tutti i tubi 3D che si intrecciavano nello schermo bene se vi foste mai chiesti da cosa diavolo era nato questo screensaver bene ora Raymond Chen che è un ex sviluppatore di Microsoft l'ha spiegato in un post sul suo blog bene Chen dice che un suo amico lavorava nel team di OpenGL in Windows a metà degli anni 90 e avevano trovato un modo di aggiungere l'accelerazione hardware nelle API proprio di OpenGL però non avevano un modo per dimostrare quello che la grafica poteva fare in quel periodo il problema era che Microsoft era vicino a rilasciare Windows NT 3.5 e il team di OpenGL voleva che gli utenti di Windows vedessero le capacità dell'accelerazione hardware ma non volevano rischiare la stabilità di Windows NT mettendo dentro qualche programma proprio che sfruttasse questa cosa e quindi venne fuori l'idea di dimostrare le capacità 3D di OpenGL proprio con uno screensaver in modo che se ci fossero stati dei problemi ecco Microsoft avrebbe potuto semplicemente dire agli utenti di non abilitare lo screensaver con OpenGL a questo punto i membri del team decisero di fare un contest in tutto il team OpenGL insomma lo screensaver più bello avrebbe vinto questo contest sarebbe stato inserito in Windows NT 3.5 in gara c'erano appunto i tubi 3D quindi 3D Pipes ma c'era anche 3D Text 3D Maze e 3D Flying Object che in effetti sono tutti i screensaver che abbiamo già visto infatti per un colpo di fortuna scrive Chen una delle persone che stavano guardando questo contest con questi screensaver era un membro del marketing team di Microsoft che praticamente li apprezzò tutti e disse bene li aggiungiamo tutti quanti a Windows NT il resto è storia 3D Pipes diventò chiaramente il preferito lo screensaver preferito di tutti quelli che usavano questo sistema operativo sul loro PC poi fu aggiunto anche a Windows 95 e da lì in tutte le principali versioni di Windows fino a Windows Vista da cui venne ecco tolto questo per raccontarvi un po' anche la storia di come mai abbiamo avuto 3D Pipes questo screensaver meraviglioso fino appunto a Windows Vista va bene basta vi do due link veloci il primo l'ha scritto una mia collega e amica sul blog di Sperfabrik si intitola costruire un web sostenibile esplorazione di tool e strategie open source è un articolo molto carino interessante dove Valeria Valeria Salis scrive appunto di come tante fondazioni tanti strumenti tante comuni di open source ecco Valeria intanto sul palco di UX Day che parla proprio di questi temi ecco tutti questi questi tool ecco stiano cercando un modo per rendere lo sviluppo web cioè le app e i siti sviluppati su web più attenti all'ambiente attentalmente vuol dire anche attenti ai conti ecco perché naturalmente dei siti che consumano meno sono anche siti che costano meno cosa vuol dire consumare meno costare meno eccetera insomma se volete scoprirlo leggetevi questo articoletto che vi dà secondo me degli insight interessanti e il secondo link che invece vi do si intitola potremmo aver scoperto il primo spot pubblicitario di Nintendo negli Stati Uniti e in questo ad del 1980 io non vi direi altro vi lascerei scoprire i dettagli leggendo questo articolo che trovo su The Verge vi lascio naturalmente il link in descrizione ma chiuderei questa puntata del podcast proprio guardando insieme questo spot pubblicitario di Nintendo negli Stati Uniti naturalmente ad chi sta seguendo in podcast questa cosa è abbastanza inutile quindi ci salutiamo qui per tutti gli altri invece guardiamoci insieme questo bellissimo spottino grazie a Nintendo che ci ha regalato questo spot grazie a The Verge che me l'ha fatto così recuperare e grazie a tutti quelli che hanno seguito anche questa puntatona del buongiorno noi ci vediamo in una prossima puntata fa molto caldo quindi attenzione bevete e non uscite nelle ore più calde sotto il sole beh soprattutto state attenti agli anziani e ai bambini vabbè le ho dette tutte ciao alla prossima ciao ciao